Ieri ci siamo recati a Roma in seguito alla convocazione della conferenza dei servizi del DAP, del Dipartimento d'Amministrazione Penitenziaria, che è scaturita dalla sendenza del Consiglio di Stato che aveva eccepito il mancato coinvolgimento del Comune di Sala Consiglina e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lago Negro nel procedimento che aveva portato alla soppressione del nostro istituto penitenziario. Io faccio una premessa, già a fine dicembre, inizio gennaio, c'erano state richieste delle memorie in cui noi dovevamo esprimere qual era la nostra posizione e sulla base di quelle memorie e a quelle memorie noi ci siamo riportati in un'ambia e anche abbastanza accesa discussione con i funzionari ministeriali del DAP evidenziando delle problematiche che al di là del vizio formale che è scaturito nella sendenza ci sono ancora dei problemi sostanziali che noi riteniamo ancora essere tutti presenti all'interno di tutta questa problematica del nostro istituto penitenziario. In questa vicenda ci sono state delle discussioni dove sono stati affrontati i vari temi del principio della territorialità dell'esecuzione della pena che forse è il cardine, la mancanza sostanziale di un istituto penitenziario all'interno diciamo di due tribunali, un accorpante e un accorpato con tutte le difficoltà che si sono poi palesate difficoltà poi anche possiamo dire appoggiate negli interventi sia del Presidente della Corte d'Appello che dal Presidente del Tribunale Dottor Zarrella dove si evidenzia una difficoltà sostanziale anche nella gestione delle spese per il trasferimento dei magistrati che si devono recare nei vari istituti penitenziari per svolgere quelle che sono attività fondamentali. Credo che sia stato un fattore molto positivo, si è aggiornati al 30 luglio perché il DAP si deve anche autodeterminare su quelle che sono state le nostre indicazioni. Naturalmente noi ci riserveremo ancora di replicare rispetto a quelle che saranno le osservazioni del DAP in questa seduta del 30 luglio ma consentitemi innanzitutto di ringraziare il Senatore Professor Franco Castiello che ha accompagnato la delegazione composta dal Sindaco di Sala Consilina, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, dal Dirigente dell'Area Tecnica Ingegnere Attilio De Nigris e dall'Avvocato dell'Ende Demetrio Fenuccio. Il Professore Castiello si è speso a favore del nostro territorio per noi è motivo di grandissima soddisfazione perché ha dimostrato di essere al di là delle appartenenze politiche sua e delle amministrazioni di riferimento nel Valodiano di essere un senatore del territorio, ha dato anche lui degli spunti molto importanti su dei cambiamenti e anche di dati sulla criminalità che si sono manifestati dopo la chiusura del Tribunale e la chiusura dell'Istituto Penitenziario. Credo che anche il suo apporto sia stato importante e quindi tutta questa squadra credo che abbia fatto un buon servizio. Io aggiungo che la situazione comunque rimane molto difficile, molto articolata, molto complessa perché sappiamo benissimo che i burocrati del DAP non ascoltano quelle che sono delle esigenze particolari perché il Sindaco di Sala Consirina ha fatto una premessa nel suo intervento, non parlava da sindaco o da avvocato del suo territorio ma parlava da cittadino del suo territorio e ha sottolineato che comunque c'era un diniego di diritti dei cittadini sul territorio in questo caso delle persone che sono detenute agli arresti con difficoltà negli incontri con i familiari, con gli avvocati quindi naturalmente noi parliamo della negazione di un diritto al di là del disagio che si crea anche economico nel nostro territorio. Un'ultima raccomandazione, invito chiunque ad evitare di creare confusione, polemiche perché credo che in questo momento il silenzio è d'oro. Se parla chi non è legittimato, chi non ha titolo, chi parla sproposito, chi non conosce i fatti in realtà come sono andati rischia solo di causare un ulteriore danno al territorio perché la pressione potrebbe essere maggiore e anche le reazioni potrebbero essere diverse. Quindi invito chiunque sia a mantenere un contegno silenzioso perché credo che in queste circostanze il silenzio è d'oro, anche una parola fuori posto potrebbe danneggiare una battaglia che credo il Comune di Sala Consirina e il Consiglio dell'Ordine abbiano già combattuto in maniera egregia perché vorrei sottolineare a qualcuno e scusate se lo dico se il 15 giugno del 2018 stiamo parlando ancora dell'Istituto Penitenziario di Sala Consirina e perché il Comune di Sala Consirina con il Consiglio dell'Ordine ha impugnato il decreto del Ministro Orlando emesso il 27 ottobre del 2015 davanti al Tar, ha avuto ragione anche al Consiglio di Stato e questo sicuramente è l'unica motivazione perché noi ancora stiamo discutendo di questa problematica senza polemiche, senza cercare di essere le prime donne, credo che in queste circostanze il silenzio è d'oro solo attraverso un'azione di unione e di sinergia tra tutte le parti interessate potremo ottenere il risultato dovuto